Ehi unicornini avete già preso il nostro libro? Noi vi aspettiamo al nostro primo firma copie A Nocere il 24 giugno alle ore 18 E a Napoli il 28 giugno alle ore 18 Ragazzi io e Lulu non vediamo l'ora Non vediamo l'ora di abbracciarvi tutti quanti Un bacio Vi aspettiamo Buonasera Buonasera, buonasera Che cosa vuole? Le do io Mi sembrano proprio delle commesse Quanto costa questo cosetto? Ma io mica sono nulla Aspetta Ma vuole qualcosa altro? Scusate io ho preso una cosa Perché sta facendo il punto? Ah ho preso la tua dica Brava, brava Non ci preoccupi guardi ecco Vado a prendere i soldi in macchina Ok ok arrivederci Arrivederci Signora i soldi Sì un attimo vengo subito C'è la macchina fuori posto Ma che stai chiedendo Ma come ti sei fatta a fregore? Guarda quanti soldi abbiamo Signora scusa Scusi signora Ciao a tutti ragazzi Io sono Aurora E tu sei Ludovica Oggi ragazzi faremo le commesse Per 24 ore Qui nel negozio dei nonni Ragazzi non l'avete notato? Sì Finalmente il dentino di Ludo è caduto E poi ragazzi mi sono pure graffiata Eh sì si è pure graffiata Allora ragazze chi è la prima che farà da commessa ai clienti che arrivano? Io Non lo so Ok Ludo 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 Ma siete capaci oppure no? Sì sì io so fare tutto Non mi sembrate tanto esperte Io sì sono espertissima Che cosa vorresti dire con questo? Non è che fate perdere i clienti a nonna Enza? Può darsi Eh no Devo dire Non Non può dare Ma basta per lasciare Ok tu aspetta il primo cliente Ludo Sicuro? Tranquillo mamma tutto Va bene dai Buonasera 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 Eh che cosa vuole? Le do ieri Ah quello? Quello Eh ok Per favore Per favore Questo qua Eh questo costa 90 euro Eh un secondo signori Sembrano proprio delle commesse Quanto costa questo cosetto? Ma io mica sono nulla Scusa Eh Non c'è la carta Ma io mica sono fare contro Non c'è neanche Eh Ludo ma quanto costa? Questo costa un cappello No Ludo mica Poi un abbraccio Allora questo costa Ma 90 euro Eh che ci sono 90 euro mi sembra un po' tanto State scherzando vero? Eh no Eh questo Ah no c'è scritto qua Ma che cosa? Eh costa 14,50 Costa un cappello Ma dov'è che ha? No No mi scusi Lei ha preso un po' di Ha preso Un po' di birra Stavattere Io non c'avevo la birra Certo Ah no sì Eh signora Ah anzi signora Perché signora Ok Eh costa 14,50 Ma scusate Voi siete Proprio pazze No 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 Noi Noi Siamo ora Ludovica Le due commesse del negozio Ecco Devo dare io le cose E tu paghi Ah mi scusi Allora Ludovica Apri la busta Non so mica dove La busta Non lo so dove Eh scusi signori Ecco la busta Ma siete proprio due sbadate No non è vero Non è vero Eh Un secondo Eh si mette qui dentro Fate adesso che io vado di freddo Ok ok Si mette qui dentro Ma è piccolissimo sto con Mi scusi Abbiamo un po' di problemi qui Ma siete pazze Un po' che stimo Allora Devo prendere Non trovo Eh vabbè Eh signora Non c'è la busta Eh Anzi Lo infiliamo a nord Così Scusa Auri Mi dica Mi dica Ma tu sei proprio la più pazza Tu sei proprio la più badata Non sai fare la commessa No io Io la più pazza Brava Brava Ok Tenga 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 Beluscia E Non 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 E È morta la signora Vuole qualcosa altro Vuole qualcosa Altro Vuole qualcosa Altro signora Eh si voglio Si 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 Ci dica Ci dica Bello questo qua Il frisbee Questo Il frisbee Oh Ma dove è Allora Allora Questo costa Davanti euro Questo costa Due euro Due euro Ok Quindi in tutto quanto viene In tutto quanto viene 14,50 Più due euro No Sto gozo Eh Quattordici e cinque Quattordici e cinque Ma no Ma faccio la mia caccia Ma questo Sede che mi chiede Allora Che cosa ride Signora Siete qui No Mi scusi Dove è finito Allora Quattordici e cinquanta Più due euro Fa quattordici Guarda Non sono una stupida Lo facciamo Come Come stai Bravissima Tu non sai leggere Mamma Allora Basta Mi sono scocciata Io me ne vado Perché voi siete proprio Fuori di testa No 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 Allora Quattordici e cinquanta Qui Ciao No mi scusi Io Ciao Scusi Quattordici e cinquanta Più due Aia Certo Dovrei tagliare questo Ah questo Quanto è Allora Questo Quanto è Due e tre Due e tre Questo Sì sì Mettiamo subito La busta Questa è tazza Ok Ok Mettiamo questo Casezzo qui dentro Ma riesco a me No Non mi devo dare Il sacchetto Ah non lo vuole Il sacchetto Mi scusi Buonasera Diudersi Sto morendo di sonno Sto morendo di sonno Sto morendo di sonno Il sacchetto è melato Ho fatto una brutta figura Mi ha detto Non lo voglio Il sacchetto Io Cioè ma Vi ha aiutato la nonna A servire questa cliente Non vorrei dirvi Ludo State facendo scappare Tutti i clienti Dal negozio Allora ragazzi Poi se arriva il nonno Si arrabbia Ok Ludò Dove la metto Ok Mettica Oh è caduta Ok Se il nonno si accorge Che state trattando male i clienti Si arrabbia Buonasera Buonasera Mi date un duodorante Il più fresco possibile Duodorante Grande No no Una fraganza un po' più fresca Tipo a pera A cetriolo A pera No a pera è quello Ah pera Ah pera Pure a cetriolo Guardi questo No no Pera va bene Ah pera Quanto le devo Questo Un secondino Ma Deve comprare Un secondo Mi serve solo il deodorante Scusate Ma questo Ma quello non è il deodorante 3 euro 3 euro Ma è sicura No Ehm Una e 90 Va bene No mi scusi Ah si 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 Una e 90 Aspetta Ma vuole qualcosa Alto Un piccolo Scusate Io ho preso una cosa Perché sta facendo il punto Ah Non sono tu dica Questa cosa Questa E poi basta E poi una crema per il corpo Una crema per il corpo Questo olio crema Olo di Ok di niente Etenga questo E per le mani Eh no Di questo E questo E per le mani Eh si Per le mani Mi fate il conto Per piacere Conto Questo quanto viene 2,50 Più 1,90 Signora Ludovica Faccio io Faccio io No Scusate ma che cos'è questa cosa Allora Eh per piacere Io vado di fretta Mi scusi Allora 1,90 Eh si si Eh più Quanto Ma un po' più veloci Non potete essere Scusatemi Ma che me ne stiamo Veloci Allora più E 50 Fa 90 euro 4 Vabbè Signora Mi paghi 10 euro A caso Ma come 10 euro 2,50 E 1,90 1 Mannaggia 1 E 90 Più 2 E 50 E uguale a 4,4 Va bene Una bustina la posso avere Ormai la devo portare Signora La bustina La bustina No Ludovica Questa Senti Ora lo puoi strafare Questa Filo Mamma mia Vado di fretta Le ho detto Eh Elio Ho capito Forza Forza Tieni Eh pure fai da te Qua in questo negozio No ma non ti preoccupi Guardi ecco Vado a prendere i soldi in macchina Ok ok Arrivederci Arrivederci Signora I soldi Sì un attimo Vengo subito C'ho la macchina fuori posto Ma che stai chiedendo Mi scusi Ma come si sei fatta fregore Guarda quanti soldi ci abbiamo Ma Ludovica Ma mi ha detto Che doveva andare a spostare la macchina E prendeva i soldi No Ma rincolle L'andiamo Ho capito Ma No ma Sarà arrivando Signora Scusa Scusi Signora Signora Siamo un disastro Come commesse Eh Tu sei un disastro Si è fatto perfettamente Non è vero Ok Forse Siamo state Un po' Pazzorelle Ecco Ludovica Devo dire che questa giornata Abbiamo fatto molte figure di cacca Allora ragazzi Noi vi salutiamo Speriamo che questo video Vi sia piaciuto E se volete Altri video 24 ore Scrivetecelo giù nei commenti Madame Pabllo Gabriano E' bevuto la compa Ancora Che ho bevuto la compa L'odio L'ha spenta A bere il compa Napoli ti sta facendo male La vostra La mia 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 Iscrivetevi Attivate la campanellina E lasciate tantissimi pollicioni In Zù Fatelo eh Ciao ciao Mi sono riscoltate Non ha detto che io sono pazza Anna mi è riscoltata Lei è pazza Grazie per la visione!